Da luglio Copa Alleanza avrà i suoi primi negozi specializzati sul mondo degli animali. Questo progetto è nato un anno fa, quattro sono i tratti salienti di questa nuova apertura. In primis l'assortimento, avremo un assortimento specializzato dalle 3.500 alle 5.000 referenze focalizzato su tutto il mondo dell'alimentare e del non alimentare. In particolare i tratti salienti riguardano prodotti naturalistici e prodotti dietetici. Avremo 21 brand differenti di prodotti alimentari. Secondo elemento di distintività, la convenienza. Saremo leader di presso rispetto alle catene specializzate, avremo una promozionalità interna al negozio. E' collegata a tutto il sistema Copa di Copa Alleanza. Terzo elemento importantissimo, svilupperemo il mondo dei servizi. All'interno del nostro negozio avremo sempre presente il servizio di toilettatura, svolto con nostro personale interno e personale specializzato selezionato esternamente. Oltre a questo, tutta una gamma di convenzioni con specialisti del settore, veterinari, educatori, comportamentisti. Oltre chiaramente alla distintività di Copa rispetto all'impegno sulla comunità. E quindi progetti con canili, gattili e associazioni di volontariato. Ultimo, ma non ultimo, in realtà primo grande elemento di distintività, il nostro personale. Selezionato tra i nostri addetti e specialmente formato. Formato attraverso la rete di veterinari, quindi con l'Associazione Nazionale Italiana. Con una formazione rivolta al comportamento degli animali, all'alimentazione e alla nutrizione specializzata. In modo da essere sostegno per i nostri clienti in ogni momento del loro acquisto. Avremo due formati di punto vendita, 300-500 metri quadri collocati in galleria e su stradale. Le prossime apertura a Ravenna e a seguire altri sei punti di vendita pilota tra luglio e settembre. e a seguire un ulteriore piano di sviluppo molto ambizioso che ci porterà a 60 aperture nel triennio con un volume di affari di 40 milioni di euro.